Il 6 maggio 2021 si celebra il centenario della nascita di Gianfranco Maria Chiti, uomo, militare e servo di Dio. La storia di padre Chiti è davvero unica nel suo genere. Ufficiale del reggio esercito, medaia al valor militare a 21 anni per la campagna di Russia, dove aver aderito alla RSI salvò partigiani ed ebrei come i torinesi Giulio Segre e suo padre da una fine che pareva scritta. Dopo la guerra divenne generale di brigata dei granatieri di Sardegna rivestì incarichi di primo piano nelle scuole militari e in alti comandi, fra cui lo stato maggiore dell'esercito. Quindi, congedatosi nel 1978, si fece cappuccino. Ressaurò il convento di Orvieto, semiabbandonato, rendendolo un'oasi di spiritualità e di conforto per tanti. Una vita la sua, che dalla prima giovinezza fino alla vecchiaia ha lasciato dentro di sé un profumo di virtù, anzi, di vera e propria santità, testimoniato dai numerevoli voci. Senza mai rinnegare il proprio passato, anzi, sottolineando che la vita militare non è una scelta di morte, la guerra è una costrizione e anche in guerra si può scegliere di proteggere i deboli e gli indifesi. Essere soldato, ha spiegato molte volte, può essere una scelta di educazione, di rigore, di coraggio e di impegno. Non rinuncia al suo sguardo franco, aperto, senza condizionamenti, sempre fino alla morte avvenuta nel 2004. La storia però non si ferma qui. Per questo il 13 aprile 2015 il Vescovo di Orvieto, Toodi Benedetto Tuzia, ha aperto l'inchiesta diocesana per la causa di beatificazione che si è solennemente chiusa il 30 marzo nel Duomo di Orvieto con la messa celebrata dallo stesso Tuzia. I granatieri e allievi, i suoi amici, i suoi figli spirituali, i suoi estimatori, alcuni anche irpini raccolti in un'associazione hanno chiesto insistentemente l'apertura del processo di beatificazione fino ad ottenerla. E lo ricordano così. Lui era un alto ufficiale, una persona molto severa, una persona che sapeva osservare, che sapeva come insegnare i valori per essere dei buoni soldati, dei buoni comandanti, dei buoni cittadini al servizio della patria e di chiunque ne avesse avuto necessità. La grandezza di quell'uomo l'abbiamo conosciuta dopo, quando ha indossato il saio e non ha più potuto nascondere la sua vera natura. Padre Chiti merita, tutti meritiamo, una storia da raccontare.